Le 7 in punto, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus. Sono diversi gli argomenti in primo piano sui giornali di oggi, a partire dalle questioni che riguardano la revisione dei parametri per quanto riguarda le riaperture, quelli che condizionano i cambi di colore delle regioni e poi soprattutto la questione dello spostamento del coprifuoco sulla quale c'è una sorta di divisione e un braccio di ferro nell'ambito del governo. Tutte questioni che verranno affrontate intanto a partire da oggi con una cabina di regia tra il Premier Draghi e i rappresentanti della maggioranza e poi domani ci sarà un incontro tra governo e regioni per fare il punto della situazione. Per quanto riguarda l'Italia c'è poi in primo piano la questione dei migranti perché l'hotspot di Lampedusa è al collasso, una questione non più rinviabile. Il Premier Draghi avrebbe intenzione di portarla nel prossimo Consiglio europeo mentre il Ministro degli Esteri Di Maio dovrebbe andare in missione in Libia. E poi per quanto riguarda gli esteri il Medio Oriente che si infiamma con Gerusalemme dove tornano a risuonare le sirene e nelle ultime ore c'è stato un lancio di razzi dalla striscia di Gaza il quale è stato risposto con attacchi dell'aviazione israeliana. Partiamo subito dal Corriere della Sera, il primo giornale che vediamo. In primo piano vedete così cambierà il coprifuoco. Le regioni stop alla circolazione dalle 23, questa è la richiesta. Il Governo apre in settimana in arrivo 3 milioni di dosi di vaccini. Cartabia ai partiti senza riforma della giustizia a rischio il Recovery Fund. Per quanto riguarda i vaccini c'è un'intervista questa mattina sul Corriere della Sera alla direttrice dell'EMA che sottolinea tutti i vaccini sono sicuri, serviranno però altri richiami. Di spalla l'emergenza migranti, 70 mila in arrivo, questa appunto è la previsione, la lamorgese che chiama l'Europa. Di spalla sempre le questioni che riguardano la politica. In primo piano ci sono le elezioni amministrative e in particolare il patto PD-Movimento 5 Stelle in crisi nelle città ma non a Napoli. A centropagina gli scontri, i razzi, la battaglia a Gerusalemme, l'attacco da Gaza e la risposta di Israele, 20 morti nella striscia con una situazione però di continua tensione. La Repubblica, apertura dedicata ai migranti, Draghi all'Unione Europea, un patto con la Libia. Il Governo chiede aiuti di Bruxelles, Tripoli per fermare le partenze e l'ingerenza di Erdogan, ricollocare i profughi. L'Italetta Salvini sui soccorsi, la disperazione di 2.128 sbarcati a Lampedusa. I trafficanti hanno ucciso mia sorella, racconti drammatici. Virus, il Ministero, frena sul coprifuoco. Decisioni il 21 di maggio, questa appunto l'ipotesi. C'è un'inchiesta di Bergamo Covid, c'è l'inchiesta di Bergamo Covid, così sparì il report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità contro la Cina. E poi di spalla le questioni che riguardano la giustizia e le proposte di Cartabia per i processi più brevi. A centro pagina un'altra fotografia che ci racconta di quello che sta accadendo in Medio Oriente con scontri e razzi e la battaglia a Gerusalemme. Andiamo a vedere l'apertura della stampa, eccola qui, dove oggi troviamo un'intervista al commissario straordinario per l'emergenza Covid, del generale Figliuolo, che dice svolta a giugno con i vaccini nelle farmacie. Il commissario, un milione di dosi al giorno, grazie ai medici di famiglia, questo sarebbe appunto l'obiettivo. E poi c'è il sottosegretario alla salute Sileri, con metà degli italiani immuni via le mascherine. L'RT non più tra i criteri per i colori, quindi invece dell'indice di trasmissibilità, si vorrebbe un parametro più legato alla questione dei ricoveri, in particolare delle terapie intensive. Di spalla un'intervista alla raggio, dice sulla stampa, ora sarò la candidata di tutti, anche di chi vota il PD. E a centro pagina si parla anche sulla stampa di Israele che brucia morte e centinaia di feriti nella battaglia delle case. L'apertura del messaggero è dedicata al caos vaccini, cambia il piano, regioni in ordine sparso sugli over 50. Il Lazio allunga 35 giorni, il richiamo Pfizer, se ne era parlato, e poi coprifuoco, due ore valgono 2 miliardi al mese. L'assessore alla sanità della regione Lazio d'Amato che dice a luglio via le mascherine. Dunque con l'incremento dei vaccini questo appunto è anche un altro degli obiettivi che ci sono. E ancora il Campidoglio, la Corsa, Gualtieri Raggi, Bertolaso, patto dal notaio. E ci sono, Gelmini varano a commissione per i poteri speciali a Roma. E ancora si parla anche sul messaggero della giustizia, processi più veloci o salta, il recovery. E ancora le violenze in Medio Oriente. Vediamo anche l'apertura del sole. 24 ore, superdividendi da 17 miliardi, questioni che riguardano piazza affari. E poi il maltempo che affonda la produzione di frutta, danni per 860 milioni. Il conto delle gelate è ancora provvisorio, potrebbe superiare quota un miliardo. E poi ancora si parla del maxi oleodotto americano sul sole 24 ore, bloccato, tensioni su petrolio e carburanti a causa di un attacco informatico. Bene, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Riprendiamo subito dopo con la lettura dei giornali. Ben tornati in studio, proseguiamo con la rassegna stampa di Omnibus. Siamo all'apertura del fatto quotidiano dedicato alla questione della giustizia. La svolta a Cartabia è quella di Berlusconi, titola questa mattina Il Fatto. Riesumate due leggi ad personam del Caimano su pressione di Forza Italia, Lega e Italia Viva. La ministra ricicla la pecorella, bucciata dalla sua consulta, sull'appello di Mezzato e le priorità dei reati decise dal Parlamento. Ancora sempre dal fatto quotidiano. In Taglio Alto c'è un'intervista a Luigi Di Maio questa mattina. PD basta accuse incrociate con Conte Movimento 5 Stelle più verde. e dice appunto in questa intervista perché dovremmo mollare la Raggi in maniera naturalmente interrogativa, visto che hanno deciso di sostenerla. Siamo al foglio. In Taglio Alto la caduta nel grottesco della progettata alleanza senza alternative tra il PD e i grillini o quel che ne resta è umiliante e non solo per Roma, firma di Giuliano Ferrara. Mentre Claudio Cerasa fa un focus sugli attacchi cyber degli stati, l'Italia ora risponderà e appunto Gabrielli parla al foglio su questo argomento. Il domani, apertura dedicata alla questione migranti con il titolo La guerra, le ONG e i favori alla Libia non fermano. Gli sbarchi nell'hotspot siciliano ci sono già 1.400 persone. A fronte di una capienza di 400, il medico Bartolo dice i trafficanti stanno svuotando i campi in vista di nuovi arrivi. Vediamo anche il giornale Giustizia si cambia via libera della Cartabia la riforma, prescrizione, tempi dei processi e limiti all'appello lo chiede l'Europa per i recovery, ma serve una rivoluzione. Ancora l'apertura, eccola qui, di Libero. Rimettete Salvini al Viminale, sbarchi un disastro, gli arrivi dei clandestini non finiscono mai, la Lamorgese non è capace di bloccare gli ingressi, e allora invece di processarlo si nomini Matteo Ministro, con lui meno barconi e meno morti. E poi appunto la Cartabia che avverte le toghe, riforma della giustizia o niente soldi dell'Unione Europea. Il manifesto, apertura dedicata al Medio Oriente, a tutta spianata, la polizia israeliana fa irruzione sulla spianata, lacrimogeni nelle moschee, 300 feriti, missili di Hamas sul sud di Israele, che risponde con raid aerei, 20 palestinesi uccisi, tra di loro 9 bambini, Movimento Popolare a Gelusalemme, presidia Sheikh Jarrah. Andiamo a vedere anche il tempo, eccolo qui. Arriva la sorpresa del fisco, attenti ai rimborsi delle tasse, nella dichiarazione dei redditi addio alle detrazioni, per chi ha pagato in contanti, non si potranno recuperare i soldi per le visite mediche, dentisti, istruzioni e sport. La norma prevista nel 2020 manda in allarme i CAF, che sperano in un rinvio. Vediamo anche l'apertura della verità, eccola qui, per gli italiani divieti e multe clandestini, li ammassano così, bomba sanitaria a Lampedusa, sottolinea la verità. Ogni minimo assembramento nelle nostre città va incontro a severe reprimende, per gli stranieri invece trattamento inumano e nessun controllo, eppure il pericolo appare evidente, i medici lanciano l'allarme. Ancora il governo battaglia finale per le riaperture, quasi certi il coprifuoco a mezzanotte, ma Salvini vuole abolirlo, i centri commerciali attivi nel weekend, si discute sui ristoranti al chiuso, però l'incubo sono i parametri per i cambi di colore da modificare subito. Quest'è un appunto che abbiamo detto, verrà affrontata questa settimana. L'Avvenire dedica la sua apertura a Gerusalemme, che brucia e poi il ricatto dalla Libia, altri arrivi e naufragi. E ancora vediamo anche il mattino, da cui vi segnalo la questione che riguarda i vaccini in Campania, ora sta finendo, anche a AstraZeneca le dosi disponibili serviranno per i richiami senza un patto nell'Unione Europea, in bilico i nuovi arrivi. Allora andiamo a vedere le pagine interne dei quotidiani, partiamo dalla stampa, eccola qui, dove troviamo questa mattina l'intervista al generale Figliuolo, vaccini giugno, il mese clou con medici di base e farmacia, un milione di dosi al giorno. Vorrei, dice Figliuolo in questa intervista, una maggiore adesione, dobbiamo dare una spallata, a fine settembre l'immunità. E ci sono appunto i numeri regione per regione con questo schema che trovate appunto sulla stampa. Che cosa dice in questa intervista? Vediamo qualche richiamo. Con 43 mila medici di famiglia possiamo aggiungere 430 mila dosi ogni 24 ore, con le farmacie 100 mila. I pazienti si fidano di loro, coinvolgendoli in modo uniforme, auspico una sorta di emulazione virtuosa. Dosi in vacanza solo in casi particolari, squadre sanitarie militari nelle regioni indietro con gli anziani. Quindi ci sarà un supporto. E poi i sanitari Novax, dice Figliuolo, sono una minima parte. Nei loro confronti si può arrivare fino a risolvere il contratto se appunto continuano a fare resistenza. Andiamo sul Corriere della Sera, ci spostiamo per continuare a parlare appunto delle questioni che riguardano il Covid, in particolare i vaccini, perché ci sono 3 milioni di dosi in arrivo questa settimana, ma la copertura dei sessantenni è ancora troppo bassa. A Napoli due grandi hub vaccinali rimasti chiusi, ritardi in Toscana, Umbria e Friuli, Venezia, Giulia. Dunque ci sono delle situazioni che continuano ad andare a rilento, a volte anche perché appunto le questioni riguardano l'approvvigionamento di vaccini. E a proposito di vaccini vi segnalo sempre dal Corriere della Sera questa intervista alla direttrice dell'EMA. Tutti i vaccini funzionano bene. Un altro richiamo, credo, servirà, dice. Prudenza sulle riaperture anche fra chi ha ricevuto le dosi. Questo è un virus sfuggente, sottolinea. E ancora per quanto riguarda la sicurezza, dice, i quattro sieri danno autorizzati sono sicuri, di qualità ed efficace. Abbiamo un sistema che permette di monitorare gli effetti collaterali. Per quanto riguarda invece la questione dei brevetti, dice, sono per un accesso equo. E credo che nessuno sia al sicuro, finché non siamo tutti al sicuro. Ora serve maggiore distribuzione e disponibilità. Questa è l'intervista che trovate, la direttrice dell'EMA sul Corriere della Sera questa mattina. Altra intervista che vi volevo segnalare. Eccola qui. E all'immunologo Abrignani che dice, miglioramento netto, il numero dei morti si abbasserà di colpo. Nelle prossime settimane la pandemia diventerà sostenibile, tornerà a livelli della scorsa estate. Entro maggio iniezioni per tutti gli over 60, il 97% dei soggetti che rischierebbe la vita. Ancora sempre dal Corriere della Sera, visto che ci siamo, diamo un'occhiata anche alle questioni che riguardano i migranti. Lampedusa, sbarchi senza tregua, Salvini, non possiamo sostenerli. Oltre 2.000 arrivi in 24 ore, a largo dell'Africa 5 annegati, tra cui un bimbo e 23 dispersi. E dunque la situazione in divenire ancora, purtroppo. E sempre dal Corriere della Sera vi segnalo il punto sulle partenze dalla Libia in 70.000 pronti a partire la Morgese. Ora un sistema europeo di solidarietà su base volontaria. Disponibili sarebbero Francia, Spagna, Portogallo e Romania. E il vertice con Draghi. A questo proposito andiamo un attimo sulla Repubblica che analizza meglio questa questione. Eccola qui, l'Italia chiede all'Europa un accordo con Tripoli. Soldi per fermare i barconi. Eccolo qui, Mario Draghi tenta il pressing sull'Unione per arrivare ad una nuova intesa sui migranti. Tra due settimane porrà la questione al Consiglio europeo. L'obiettivo è quello di non limitare la discussione ai cosiddetti ricollocamenti. L'Italia infatti ha la ricerca di un exit strategy innovativa. Il primo passo potrebbe essere compiuto già nei prossimi giorni. Ieri mattina il titolare della Farnesina Luigi Di Maio ha partecipato a Bruxelles al Consiglio degli Affari Estere e ha posto sul tavolo sebbene non fosse all'ordine del giorno l'emergenza che il nostro paese sta affrontando a Lampedusa. La risposta è stata un'anima e tanta solidarietà a parole ma pochissimo nei contenuti. E allora dunque prossimamente Di Maio dovrebbe volare a Tripoli in Libia per fare il punto della situazione e trovare una soluzione sul molo della disperazione. Il reportaggio che troviamo sulla Repubblica Lampedusa torna frontiera e questa fotografia ci racconta in parte naturalmente e ci dà un'idea di quello che sta accadendo. Sempre per quanto riguarda la Repubblica torniamo un attimo a parlare delle questioni del coprifuoco perché ci sono i dubbi di speranza la decisione slitti al 21 di maggio perché sappiamo appunto che c'è chi va in pressing in particolare le regioni e Sileri dice via l'obbligo di mascherina all'aperto quando avremmo coperto 30 milioni di persone. E ancora per quanto riguarda le questioni della politica volevo tornare un secondo sul Corriere della Sera eccolo qui, in primo piano ci sono le amministrative lo abbiamo detto, PD, Movimento 5 Stelle, Roma mette in crisi l'asse, i dubbi tra i dem sono inaffidabili Boccia insieme al secondo turno niente intesa a Torino ma a Napoli c'è Manfredi e a questo proposito che cosa succede invece nel centro-destra? Eccolo qua, il centro-destra offre carta bianca a Bertolaso ma il pressing fallisce Salvini propone un patto filmato dai leader ma resta il no dunque Bertolaso appunto non sarebbe intenzionato ad accettare almeno per il momento l'offerta del centro-destra per quanto riguarda la corsa alle amministrative e torniamo un attimo andiamo un attimo sulla stampa perché volevo segnalarvi eccolo qui ci sono vari articoli naturalmente su tutti i giornali di oggi ma noi lo prendiamo dalla stampa quello che sta succedendo in Medio Oriente razzi, sirene e ferite a Gerusalemmo un giorno di guerra all'offensiva di Hamas dopo gli scontri alla spianata il raid di Israele su Gaza 20 morti tra cui 9 bambini Netanyahu che ha detto varcata la linea rossa i partner di governo per il pugno duro e c'è appunto questo schema che riassuma un po' la questione dal 2015 ad oggi e volevo segnalarvi eccola qui questa intervista questo analista americano Closon che dice gli Stati Uniti restano defilati il Medio Oriente non è una priorità i focus di Biden sono Russia e Cina l'unica eccezione è il negoziato con l'Iran e fa un po' il punto della situazione andiamo un attimo sul messaggero per dare un'occhiata anche qui alle questioni che riguardano le vaccinazioni over 50 caos regioni Lazio richiamo Pfizer allungato a 35 giorni se ne era parlato adesso nel Lazio sarà effettivo territorio in ordine sparso la campagna blocca le prime dosi di AstraZeneca campagna ancora in costante in 7 giorni solo due volte raggiunte le 500 mila iniezioni e ancora c'è questa intervista che vi segnalo all'infettivologo Massimo Andreoni sul messaggero aprire la profilassi senza limiti di età 45 milioni di vaccinati o sarà un autunno è duro il primario di Tor Vergata dice facciamo in fretta per bloccare varianti resistenti all'antidoto la grande maggioranza delle produttore fragili è stata protetta ora tocca ai giovani appunto il loro momento per quanto riguarda le questioni legate al coprifuoco due ore in più valgono 2 miliardi al mese ci racconta il messaggero ed è tutto per la rassegna stampa e buongiorno a Paolo Sottocorona per le previsioni meteo grazie buongiorno l'avanzamento di quella perturbazione che ieri si stava affacciando sulle zone di nord-ovest è molto è veloce e lento questo faremo un piccolo calcolo alle 7.55 ci sono già molte piogge in questa zona addirittura intorno la Sardegna anche la traccia di temporali e piano piano vedete qualcosa arriva anche al centro in realtà il calcolo la prima carta che vediamo sarebbero le piogge previste fino alle 14 vediamo la prima cartina lascerebbe fuori per esempio ancora il Lazio dove invece abbiamo visto già qualcosa c'è quindi forse è un poco più avanti però intanto guardiamo come al solito i colori parliamo di piogge nelle 12 ore quindi il colore azzurro che sono per esempio moderate chiaramente moderate nelle prime 12 ore moderate nella seconda parte della giornata l'insieme è sicuramente significativo e intanto per oggi fenomeni intensi già intensi nelle 12 ore proprio sull'alto Piemonte vediamo nella seconda parte della giornata l'avanzamento vedete addirittura c'è qualche schiarita già sulle zone di nord ovest quindi il grosso sta passando però nel pomeriggio prende tutto il nord con qualche fenomeno intenso ancora vedete fra Lazio e Silazio Veneto e Lombardia e poi al centro con piogge complessivamente non particolarmente intense al sud non dovrebbe arrivare nulla giornata di domani nelle 24 ore quindi complessivamente ancora sulle zone di nord est ci sono zone con piogge deboli o anche qualche schiarita ma ancora ci sono i fenomeni presenti e qualcuno anche sulle zone di nord ovest quindi tutto si attenua un poco ma rimane presente il maltempo piogge sulle zone interne del centro sul basso tirreno la parte intensa vedete della perturbazione è sicuramente passata ma quello che resta dietro lo strascico non passa subito perché se arriviamo alla giornata di giovedì troviamo ancora sul nord est possibili fenomeni intensi qualche pioggia debole fra centro e sud anche sulle zone di nord ovest ma vedete che a parte forse delle isole maggiori sulle altre zone qualche segno c'è ancora i due flash finali le temperature minime di questa mattina non sono scese molto ma certo non sono elevate sta cambiando proprio il tipo di aria e lo stato dei mari che a ovest della penisola e vedete più si va a ovest più si trova moto ondoso forte perché col maltempo con la perturbazione arrivano anche venti inizialmente meridionali piuttosto forti e i mari come usa dire seguono se volete ci vediamo alle 7.55 adesso pubblicità poi la prima edizione del nostro telegiornale con Emanuele Lagarulli da più tardi grazie a tutti Grazie a tutti.